Allora, sono qua con i miei due modelli di ruote dentate, uno fatto con il loft color rosso partendo dal piano trasversale, mentre quello verde fatto con lo sweep partendo dal piano normale. Le ruote sembrano simili, andiamo a vedere, sono differenti però, infatti quella test, quel 1.55 contro l'1.52 destava preoccupazione, di fatti ho a mio avviso quel problema lì, nel senso che se adesso vado a vedere l'interferenza, stiamo parlando di interferenze differenti, perché se io vado qui su questa rossa e vado all'allevamento di interferenze, calcola, stiamo parlando di 0.101, cioè di un decimo di interferenza, invece se vado qui, quello fatto con il mio sweep, faccio la stessa cosa, rilevamento interferenze, stiamo parlando di 10 volte tanto, se non 20 volte tanto, 20 volte tanto, e dunque il modello con lo sweep a mio avviso, almeno come l'ho fatto io, non va bene rispetto a un modello già più preciso con il loft partendo naturalmente dal piano trasversale. Adesso magari sperimento vari tipi, però pensavo di essere abbastanza vicino, o comunque simili, invece qua la differenza è notevole, ma si vedeva già anche subito qua, perché qui ci vede proprio la sovrapposizione, mentre là si fa fatica a vedere la sovrapposizione, no? Non c'è la sovrapposizione, dunque sicuramente la mia corretta 10 è per adesso la migliore che ho. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.